Tour elettorale per Vincenzo De Luca nella provincia nord di Napoli. Il candidato del PD è stato prima al Lab di Giuliano, poi al Delfino a Mugnano ed infine si è recato al centro expert di Villaricca, dove lo ha accolto il patron Sergio Mallardo con tutto il suo staff capitanato da Paolo Fusco. Mallardo ha ribadito al sindaco emerito di Salerno le necessità del mondo delle aziende in Campania e in particolare nel comprensorio, sottolineando come il suo gruppo non riesca a trovare dalle amministrazioni le risposte adeguate ma solo ostacoli e barriere. De Luca, accompagnato da Rosario Cefalo, Raffaele Iodice e dai suoi fedelissimi Giovanni Porcelli e Mario Molino ha voluto visitare il Lago Patria, ma prima ha detto la sua sulla vicenda primarie. Io penso che sia una vergogna, penso che dobbiamo farla finita, penso che i cittadini abbiano capito qual è l'oggetto del contendere, il motivo del contendere. C'è uno scontro in atto fra la burocrazia di partito, i capetti, le correnti, le sottocorrenti e i cittadini normali, i militanti normali, che vogliono soltanto il diritto di partecipare e di decidere il loro candidato. Tutto qui. C'è qualcuno che ha paura che arrivi a Napoli, alla regione, un uomo libero, che non ha padroni e non ha padrini. Questa è tutta la storia e ci stanno facendo perdere un sacco di tempo per cercare di evitare questo pericolo. Sabato mattina abbiamo una manifestazione al Teatro Filangeri a Napoli alle ore 11. Sarà una manifestazione a difesa della dignità dei cittadini, della libertà dei cittadini. Ci sono una decina di capi, capetti, capi bastoni, capi correnti, che hanno un solo interesse, farsi i fatti propri, candidarsi, prendere i voti. Sono l'unico fra i candidati che può parlare non sulla base delle parole, ma sulla base dei fatti, cioè di quello che ha fatto nella sua realtà.